Ciao bimbi, un attimo è che sto a fare una cosa Sì Gabo l'ho visto il telefonino di Goku Vediamo se si riesce a fare qualcosa Sto per fare vittorie reali in questo momento E' tanto che non ci chiamo al Fortnite tra l'altro Guarda attenzione Lo sai che nel telefonino di Goku c'è incluso il numero di Goku Salvate la rubrica Ok, non penso sia vero però Lo sai che anche io ho una maglietta green screen E facevo il cretino in giro Ma questa non è una maglietta green screen Volpe io ho un professore che per un esame di secreti Vuole un progetto di 40 pagine E fa due scritte a due ore e mezza all'una Eh, veramente un bastardo Io li trovo, succhia cazzo Un lì che era confermato Goku, Vegeta e Beerus Sì ho saputo Assurdo, perché Beerus? Va bene eh, non mi lamento ovviamente Beerus mio padre Però ho solo un'altra skin Come on dude Quando hai il telefono di Goku Te vengono i messaggi tipo I need cac Goku Ma non credo Sì mi piacerebbe essere una meccana Eh, mi sa che non ci sarà piccolo purtroppo Nelle schine a questo punto Come cazzo fa esserci spazio anche per piccolo? È un casino importante questo Eh sì, molto stupidi Credo proprio che non ci sarà Non ci sarà 18, temo Mi sembra veramente strano però Che non mettano la... La quota rosa Come fanno a non mettere ne Bulma Ne... Non so chi No Cioè come fanno? Vergognoso Non si può vedere una roba del genere Non c'è più parità Dei sessi Stiamo regredendo Neanche la quota rosa Cioè neanche proprio il minimo indispensabile Sì Sì Iscriviti al nostro canale Grazie a tutti